Siamo di fronte, secondo noi, alla solita furbata di chi non rispetta la terzietà di questi uffici, è qua che viene fuori il ruolo del Movimento 5 Stelle, che cosa avremmo fatto noi? Intanto, prima la salute, dobbiamo garantire assolutamente la salute dei cittadini, quindi se fossimo stati noi il governo della regione avremmo detto, intanto vogliamo un altro parere, non possiamo omettere nella procedura di valutazione queste note, anzi, proprio in funzione di queste, garantendo la terzietà di questi dirigenti, di questi funzionari, esprimere un parere precauzionale, e quindi sicuramente avremmo detto no, no, ci servono altri elementi, così non è stato, è avvenuto l'esatto contrario. Con la logica della creazione dei posti di lavoro a tutti i costi, anche a discapito della salute, probabilmente è stata questa la logica, speriamo, la Procura accetterà, se c'è stato anche qui un animesimo caso total, ma questo lo accetterà la Procura, si passa di fronte a tutto, di fronte alla legge, le procedure, vengono rimossi funzionali se non danno pareri come pare al potente eletto di turno, e vengono rimosse deleghe agli assessori, questo è Nacital.